Buongiorno, benvenuti al webinar di Plus24 del lunedì. Oggi cerchiamo di capire dove c'è valore oltre le azioni della tecnologia in borsa. Si parla di investimenti gross nella tecnologia e di investimenti value nelle azioni invece che sono in settori generalmente più tradizionali. Ma di tutto questo appunto parleremo con i nostri ospiti in studio ai quali potrete fare le domande in diretta sui social, da dove ci vedete. In studio con me c'è il dottor Alberto Franceschini, presidente di Ambro Mobiliare. Buongiorno. Buongiorno. Collegati in remoto invece ci sono Mario Allegra che è responsabile degli investimenti di Alfa SCF. Buongiorno dottor Allegra. Buongiorno a voi. E René Nicolodi che è responsabile, più difficile il nome, Equities and Themes di Swisscanto. Buongiorno dottor Nicolodi, anche a lei. Buongiorno. Allora, inquadriamo un po' l'argomento per capire in pratica di che cosa parliamo oggi. Dottor Allegra, entriamo subito nel vivo. Quali sono le aziende value? Di che cosa stiamo parlando? Allora, la strategia value è una delle strategie azionarie, diciamo, più storiche. L'investimento di tipo value è stato inventato quasi ormai un centinaio di anni fa da Graham e poi è stato, diciamo, approfondito e anche in parte modificato e migliorato da Warren Buffett. Che cosa prevede questa strategia di investimento? Diciamo, in origine è sicuramente una strategia la più oggettiva che c'è, perché bisogna andare a prendere i numeri aziendali e vedere quali sono i rapporti, ad esempio prezzo utile, prezzo sul valore di libro, per dare effettivamente quella che è una valutazione dell'azienda e dire che questa azienda vale meno del suo prezzo di borsa oppure vale di più. Quindi l'approccio value è esattamente questo, è un approccio abbastanza scientifico che deve dire se un'azienda è sopra o sottovalutata rispetto a dove è prezzata in quel momento sul mercato. Negli anni... No, mi scusi, l'ho interrotta perché dicevo già, mi sembra il contrario dell'approccio di investimento nelle azioni tecnologiche che spesso, non per tutte le azioni è così, ma spesso l'investimento si fa con l'obiettivo di una crescita futura degli utili. Magari sono aziende innovative che magari non fanno utile adesso. Ecco, invece lei sta dicendo che le azioni value invece hanno un valore che si può quantificare, no? Quindi magari quotano in borsa, si investe in queste azioni perché quotano in borsa meno di quello che in realtà valgono come attività o come profitti, è corretto? È corretto, diciamo che è condizione necessaria, ma non sufficiente che un'azienda rientri nel perimetro value e che comunque faccia degli utili e che comunque abbia degli utili, altrimenti alcuni rapporti non possono essere calcolati. Per quanto riguarda le aziende della tecnologia invece l'approccio è opposto. dico io compro oggi delle aziende perché in futuro faranno utili, appena raggiungeranno la massa critica di utenti che generalmente raggiungono molto velocemente inizieranno a fare utili. Quindi l'approccio è ben differente. Una è un'azienda che ha già dei clienti, cresce a dei ritmi più bassi all'anno, però ha un business più stabile che si mantiene nel tempo e che cresce che io posso valutare. Un altro è, se io mi baso solo esclusivamente su aspettative future di crescita di ricavi e quindi di generazione di utili. Possiamo fare degli esempi di settori? Perché quando si parla di growth viene facile parlare della tecnologia e invece quando si parla di value dove possiamo trovare queste azioni? Ci sono dei settori in particolare nei quali si può investire in azioni value? O sono un po' aziende trasversali a tutti i settori? Allora, questa dipende un po' dai momenti storici dei mercati, dipende anche dai momenti storici dei consumi, delle abitudini dei consumi. Diciamo che tradizionalmente i settori value sono i settori oil and gas, alcuni rami del settore farmaceutico, le banche possono essere un settore considerato value. Stiamo quindi parlando di, ad esempio, dei business stabili nel tempo, molto solidi, che risentono in parte dei grandi cicli economici e che hanno soprattutto una base di clientela abbastanza stabile. Quando io dico base di clientela vuol dire clienti, quindi ricavi, diciamo ricavi, quindi la prima linea del bilancio. Direi che questi settori anche al momento sono quelli che possono essere considerati più value rispetto al classico esempio del settore tecnologico, che per definizione è un settore di crescita. Ecco, le chiedo subito, dottor Allegra, visto che ha citato Warren Buffett, che è un guru degli investimenti, di nome, insomma, chi frequenta un po' i mercati lo conosce, è un signore, insomma, che ormai ha la sua età, ma, insomma, continua a essere famoso, viene intervistato. Il suo fondo è Berkshire Hathaway, un fondo che ha tenuto un'impostazione value, ha sempre tenuto un'impostazione value, Se guardiamo i suoi titoli, insomma, quindi un investimento stabile in alcune azioni, ecco, se guardiamo i suoi titoli, ci sono Bank of America, ci sono American Express, come diceva le banche, c'è Coca-Cola, c'è la petrolifera Chevron, però nella prima posizione del suo portafoglio c'è anche Apple. ci vuole parlare un po' di questo approccio di Warren Buffett, è stato profittevole? Bisogna dire che Warren Buffett, diciamo, è stato un guru, lo è tuttora, vive anche un po' di fama. Warren Buffett ha perfezionato il value investing ed ha vissuto gli anni d'oro del value investing. Devo dire che anche lui è stato molto bravo ad adattarsi ai tempi, in quanto quasi metà del suo portafoglio adesso è investito in Apple, adesso forse è stata leggermente ridotta. Questo perché? Perché anche se uno guarda al mercato, è difficile battere o sovraperformare il mercato se uno guarda solo al value, se uno tiene fuori i titoli di crescita, i titoli tecnologici, perché sono stati un motore di crescita fondamentale per gli indici negli ultimi anni. Quindi se Warren Buffett, diciamo, fosse rimasto fuori da questo settore, molto probabilmente le performance del suo fondo a oggi sarebbero abbastanza inferiori al mercato. Nonostante tutto, se guardiamo ad esempio la performance di Berkshire Hathaway negli ultimi dieci anni, è allineata con quella dell'indice S&P 500. È chiaro che se poi estendiamo nel passato questo track record, quindi se andiamo a fare un confronto su un periodo molto più lungo, prendiamo gli anni d'oro del value investing e quindi assolutamente Berkshire Hathaway ha fatto molto meglio del mercato. Sì, anche perché in realtà appunto la performance della borsa americana è stata fatta, come sappiamo, in gran parte da questi titoli tecnologici, tra cui Apple, no? Dottor Franceschini stava dicendo... Apple ormai non si può più considerare un titolo crescita, un titolo growth, perché è un titolo, è un'azienda che esiste da tantissimi anni, ormai ha una base consolidata di clienti, continua a effettuare attività di investimenti, ma su prodotti che sono sostanzialmente ormai entrati nelle tasche di tutti, dal telefonino al tablet, piuttosto che anche quelli nuovi, diciamo gli accessori, persino il cavetto di ricarica ormai è un prodotto sulla quale l'Apple fa dei margini incredibili, quindi sostanzialmente, diciamo che è quasi più value che growth come titolo. E anche quelli che sono tutti considerati i titoli tecnologici, Alphabet, Meta, Amazon, sono titoli che sono ormai presenti sul listino da più di dieci anni, ormai hanno tutti una base di clientela storica, Alphabet con Google non può essere considerato più quasi un prodotto crescita, ma è più un prodotto ormai che ha un monopolio di fatto, a livello mondiale, su determinati aree di business e quindi questo le consente di poter avere dei margini importanti. Quindi insomma c'è stato un passaggio di azioni, diciamo, hanno attraversato il muro, ecco. Assolutamente. E quindi anche un po' una questione di approccio, cioè trovare quelle aziende appunto che sono sottovalutate, poi non so se queste aziende, insomma si parla anche di una bolla di queste aziende, però di fatto continuano a trainare il mercato, no? Assolutamente. Apple e Microsoft. Ecco, a questo proposito, dottor Nicolodi, insomma le chiedo, insomma voi avete disegnato un grafico nel quale, insomma che adesso vediamo, insomma magari la regia ce lo fa vedere, c'è una performance relativa tra le azioni value e le azioni growth rispetto alla valutazione in borsa relativa tra azioni value e azioni growth e vediamo che mentre la valutazione dei titoli value, scusate la ripetizione, è aumentata, insomma se non mi sbaglio dall'anno 2000, invece le azioni, insomma la performance in borsa è diminuita rispetto a quella dei titoli growth, soprattutto negli ultimi dieci anni appunto in cui c'è stato una grande crescita della tecnologia. Ecco, ci vuole commentare intanto questo grafico, perché avete pensato di farlo e quali sono le conclusioni che avete tratto? Dottor Nicolodi, non so se ci sente, non la sentiamo forse noi? Ecco, forse vediamo se riusciamo a recuperare il collo di... Mi sente? Sì, adesso la sentiamo bene, perfetto. No, dicevo, non so se ha sentito la domanda, dicevo avete appunto, c'è in video questo grafico in cui si mostra la valutazione relativa delle azioni value che sale e invece la performance che scende rispetto ai settori growth. E quindi le chiedevo insomma perché avete sentito l'esigenza tra l'altro di fare questo grafico, se ce lo vuole commentare e le conclusioni a livello di investimento che si possono trarre. Per noi capire questo tipo di grafico, inoltre lo facciamo per tutti i fattori, sia il momentum, il fattore qualità, il fattore small-mic e beate, lo facciamo anche per tutte le regioni importanti per noi, e capire in quale fase storica i vari fattori si trovano. Adesso da questo grafico qua si vede chiaramente che dal 1996 siamo a livelli direi estremi, sia dal punto di vista della performance relativa, value versus growth, dal 1996 a questa parte, e dall'altro canto la valutazione del fattore value ha raggiunto quasi degli estremi, non visti dal 2020, però dal punto di vista storico siamo a più di due deviazioni standard dalla media. Per cui questo non vuol dire che il fattore value adesso dovrebbe o potrebbe diventare un punto di forza sui mercati, però sicuramente dal punto di vista della valutazione sembra molto attrattivo. Quindi insomma c'è del valore inespresso, però possiamo dire che questo valore si esprimerà a breve, oppure il fatto che le azioni value siano sottovalutate, insomma non promette nulla di concreto in borsa? Allora quello che vediamo adesso, negli ultimi tre mesi il fattore value a livello globale ha abbattuto il mercato globale MSI World del circa 1%, da inizio anno siamo ancora nel negativo del 2%, i fattori vincenti invece da inizio anno a questa parte sono chiaramente il fattore momentum che ha abbattuto il mercato globale del 12%. Il fattore per esempio crescita e qualità sono stati due fattori che abbiamo già notato in una discussione molto forti da tre anni a questa parte il fattore crescita ha abbattuto il mercato globale del 22% e il fattore quality ha abbattuto il mercato globale del 29%. Invece come notato prima, se guardiamo un po' il periodo più lungo dal 1970 vediamo che il fattore value ha realizzato un 9,5% annuale, il mercato globale è circa un 9%, però con un livello di volatilità del 15%, quindi più basso la volatilità, un livello rischio più basso del mercato completo e perciò da questo punto di vista è attrattivo. Quindi insomma lei dice un mercato anche più costante, ma dottor Nicolodi quali sono, in che scenario siamo adesso, cioè quali sono i fattori favorevoli e invece i fattori contrari alle azioni value che hanno ancora del valore inespresso? Questo un po' può guardare nel futuro, un po' la domanda è cosa succede con le aspettative dell'inflazione e dove andranno i tassi di interesse, al momento il mercato secondo noi sta giocando più un cosiddetto scenario higher for longer, cioè le aspettative di inflazione resteranno a un certo livello, non si abbasseranno così velocemente come magari i mercati si aspettano e con una crescita direi stabile, lievemente in declino. In questo contesto, anche vedendo le valutazioni del fattore growth molto molto alte, soprattutto negli Stati Uniti, potremmo vedere una rotazione nel fattore value più forte nei mesi, nelle settimane e mesi che verranno, combinata anche con una rotazione più forte nel regionale sul campo europeo. Regione europea ovviamente con delle caratteristiche defensive più forti, con delle valutazioni nel settore dell'energia, magari anche del finanziario più attrattive in relazione a altri settori che per esempio come il tecnologico hanno delle valutazioni abbastanza alte. Quindi insomma l'Europa è una regione dove ci sono più titoli value, a differenza magari degli Stati Uniti dove sono più noti i nomi della tecnologia, come dicevamo prima. Se ci guardiamo un po' lo split a livello settoriale, gli Stati Uniti fanno un 30% della capitolazione di mercato nell'IT, 30%, e quell'IT tecnologico ovviamente ha delle caratteristiche growth molto forti anche di natura ciclica. Invece la regione Europa ha un IT al 7,5%, l'healthcare e i consumer staples insieme fanno quasi un 30%, perciò ha delle caratteristiche più difensive. La Svizzera come casa estrema, un healthcare e un consumer staples con del 53% della capitalizzazione del mercato, per cui caratteristiche cicliche e caratteristiche defensive settoriali delle varie regioni hanno un ruolo collegato all'attrattività growth versus value. In certe fasi del mercato bisogna ovviamente avere un certo livello di attenzione. Poi magari un altro punto, è interessante se subdividiamo il fattore value a livello globale in decili e ci guardiamo quali decili del fattore value hanno avuto una performance forte negli anni 70 e vediamo che il deep value, cioè il decile value più attrattivo, ha ampiamente battuto tutti gli altri decili value. Questo a far vedere che ovviamente, come ho notato prima, la caratteristica value come la giocava Warren Buffett negli anni 70, negli anni oro del value, ha avuto un impatto molto forte e positivo sui mercati, ma soprattutto direi fino agli anni 2000. Ma anche nel settore value c'è una concentrazione su pochi titoli, possiamo dire, come c'è nella tecnologia o le preferenze del mercato si distribuiscono meglio nelle diverse azioni? Questo lo chiedo a chi vuole rispondere, magari dottor Allegra, chiedo a lei per primo. Ma così a caldo direi che è più distribuito. Bisogna anche considerare che il settore deep value o anche value è un po' più per esperti del settore, è un po' più per investitori un po' più evoluti e soprattutto dove c'è diciamo meno attenzione mediatica e quindi chiaramente è tenuto un po' a margine rispetto a quello di cui sempre si parla. In questo bisogna anche fare una distinzione importante secondo me per chi ci segue, per gli investitori, è che l'universo investibile del mondo azionario non è binario, cioè non è o growth o value. Growth o value sono due strategie in cui ricadono alcune aziende, però c'è tutto un intermedio di aziende che non ricadono in nessuna dei due, cioè che hanno valutazione non da essere considerate value e che non hanno le caratteristiche di essere crescita. Certo, insomma perché poi è un approccio, no? Come diceva prima, quindi insomma... Esattamente, una strategia, esattamente. Esatto, una strategia. Ma ha senso investire con questa strategia adesso, dottor Allegra? Cioè ha senso puntare adesso sulle azioni che sono sottovalutate? Certo, lei dirà, dipende dal perché sono stato sottovalutate rispetto al loro valore. Probabilmente dipende da... Io posso dire che lì dove si trova valore, lì dove si riesce a trovare delle aziende, perché qui è meglio non parlare di, come si dice, di segmento, no? Voglio fare value. Se uno compra un indice value, all'interno di un indice value non è detto che trovi proprio tutto il valore da esprimere. Oggi, come oggi, in questo contesto di mercato, lo stock picking è fondamentale, cioè la scelta dei titoli, andare a trovare effettivamente dove c'è valore. Non sono tantissimi i titoli dove oggi c'è effettivamente valore e bisogna anche, appunto, trovarli e aver coraggio e soprattutto tempo di vedere questo valore tornare. Ecco, questo valore che oggi viene considerato sottovalutato, puoi tornare. Non si sa quanto tempo ci vorrà. Sì, quindi, insomma, bisogna avere anche un obiettivo temporale. Non bisogna avere un obiettivo temporale preciso, probabilmente, no, dottor Allegra? Non bisogna avere fretta. Non bisogna avere fretta e bisogna comunque ricordarsi che è un approccio di un investimento azionario, quindi non bisogna attendersi, diciamo, numeri o performance nel breve termine. Ecco, poi magari arrivano, però non è l'approccio corretto. E bisogna considerare almeno un periodo di 3-5 anni, anche perché, come giustamente diceva, non stiamo parlando di realtà facilmente individuabili. Come avete scritto anche voi su Plus, il sabato, bisogna andare a cercare la qualità delle azioni e quindi bisogna andare a leggersi i bilanci, studiarli, capire la strategia, capire come si muovono e poi vedere il ritorno. Il ritorno sulle aziende value, soprattutto quelle italiane, che poi quelle che guardiamo noi, non arrivano nel giro di sei mesi, un anno. Ci vuole un arco di tempo che sia almeno triennale o cinquennale, sicuramente. Certo, certo, anche perché appunto bisogna selezionarle bene. Dottor Franceschini, a Piazza Affari, per esempio, voi avete individuato delle storie tipicamente value che hanno del valore intrinseco che poi appunto non è detto che si riferirà a breve. Certo, diciamo che noi come Ambro Mobiliare lavoriamo esclusivamente sulle PMI, quindi il nostro compito è quello di affiancare le PMI che vogliono raccogliere capitali per la crescita e accompagnarle sul mercato dei capitali. Direi che il 90% delle società che noi abbiamo assistito e portato in borsa si sono poi quotate al segmento EGM, che è il segmento Euronest Growth, che quindi la parola già dovrebbe indicare. Anche se poi uno va a vedere la struttura del listino e vede che sì, ci sono molte aziende tecnologiche, ma all'interno di queste aziende tecnologiche, quelle che sono le tecnologiche americane, nulla hanno a che fare con le nostre tecnologiche, che sono più su un prodotto non, diciamo, di innovativo, ma sono su uno sviluppo, sull'innovazione di processo più che sull'innovazione di prodotto. Chiaro, quindi magari continuano ad operare nei loro settori tradizionali, ma con un approccio diciamo più, ha detto lei, giustamente innovativo. Da noi aziende che fanno attività nel settore dell'intelligenza artificiale, come quelle americane, non ce ne sono, sono tutte aziende che applicano modalità di intelligenza artificiale generativa già esistenti a modelli di business o a settori industriali, per i quali, come dire, questo tipo di situazione può portare a un percorso di crescita, ma che non è di certo quello ipotizzato dalle grandi realtà statunitensi. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Diciamo, tornando un po' al discorso di base, noi siamo andati a prendere le aziende che erano quotate al 31-12-2020, che erano 101, e abbiamo visto... Quindi già dopo, in realtà, dopo lo scoppio della pandemia. Dopo lo scoppio della pandemia, erano 101, 102, che sono quelle che sono... Le abbiamo visto queste stesse aziende, abbiamo preso solo quelle che erano ancora quotate al 31-12-2023. Quelle che hanno resistito, insomma. Quelle che hanno resistito, perché non sono tutte, perché in realtà, se voi considerate oggi il listino Euronest Growth Milan è composto da 205-206 aziende, che sono arrivate in questo triennio, in realtà, ne sono arrivate molti di più, perché alcune di queste o sono state oggetto di OPE, quindi cancellate dal listino, oppure hanno fatto il cosiddetto translisting e sono passate dalla Euronest Growth Milan allo Euronext segmento star. Quindi abbiamo preso solo quelle che sono ancora rimaste. Quindi sono cresciute, diciamo, perché lo star è un segmento del listino dove ci vogliono... Dimensioni notevoli e soprattutto una governance particolarmente adatta ai mercati internazionali e quindi a poter recepire nel proprio azionariato degli investitori esteri che richiedono un certo tipo di attenzione al mondo degli investitori. Quindi noi ci siamo limitati solo al segmento cosiddetto EGM, che poi è l'ex AIM, giusto per rientrare su un gergo abbastanza facile. E di storie positive ce ne sono anche in settori abbastanza tradizionali. Anzi, noi abbiamo trovato cinque società che dal 31-12-2020 al 31-12-2023 hanno avuto un incremento del valore dell'azione importante a fronte di un percorso in termini economico-aziendali altrettanto importante. Quindi sono cresciute di fatturato, sono cresciute di redditività, sono cresciute di solidità patrimoniale finanziaria. Questo glielo chiedo. Sono cresciute anche in borsa? E sono cresciute in borsa, perché le cinque società che mi hanno preso in considerazione sono tutte società che hanno avuto un incremento del valore dell'azione di più di 150% in tre anni. Anni dove abbiamo avuto la pandemia, la guerra, il rialzo dei tassi e quindi è un triennio particolarmente complicato per chi aveva comunque mercati da seguire. Magari c'era qualcuno che seguiva molto la Russia e si è trovato un po' in difficoltà, qualcuno aveva magari una struttura nell'illibitamento abbastanza pesante e l'incremento dei tassi ha reso ancora e ha pregiudicato ancora di più il processo di crescita. Invece ci sono cinque società che appartengono ai settori assolutamente tradizionali che hanno fatto dei performance bossistiche incredibili. Non è detto che le faranno ancora in futuro, però in questo triennio sono andate bene. Sì, certo, la garanzia sappiamo che non c'è mai, ma giusto per dire, abbiamo preso queste cinque società di cui quella più bassa è Adilizia Acrobatica, che tutti la conoscono perché Vassu fa la pubblicità con i famosi muratori che si arrampicano come se fossero degli alpinisti, abbiamo preso Powersoft, cioè abbiamo identificato quelle società che hanno avuto una performance borsistica superiore al 150%, Adilizia Acrobatica ha fatto 163% nel triennio, Powersoft 169% fa amplificatori, fa strumenti che vengono utilizzati nei grandi eventi per diffondere la musica, quindi non è settore tecnologico, però esisteva da vent'anni un'azienda che è nata in Toscana, anche lì in un garage, ma comunque ormai con una storia di dominanza in quel settore specifico degli amplificatori per i grandi eventi, concerti e quant'altro, che l'ha portata comunque a essere un leader tecnologico del suo settore. Quindi magari anche dopo la pandemia c'è stato anche un rimbalzo, tra l'altro. E c'è stato un grande rimbalzo. Poi la terza, che ha fatto più 176% è Clabo, che fa vetrinette figurifere per i gelatai e per le banchi dei salumieri o dei macellai, quindi un prodotto totalmente standard e assolutamente, come dire, di dove l'innovazione è veramente minima, è più di processo che di prodotto. Al secondo posto c'è un'azienda milanese che si chiama Culti, che è quella che fa le fragranze, quella dei famosi bastoncini che emanano profumi, che ha fatto 249% di incremento del valore dell'azione dal 2020 al 2023 e la prima con un 254,2% di incremento del valore dell'azione, è un'azienda che fa gioielli, si chiama Fope, peraltro è un'azienda che ha avuto una storia particolare, perché a febbraio del 2020, quindi prima che partisse la pandemia, aveva fatto un comunicato stampa in cui i soci avevano deciso di vendere a un fondo di private equity, è arrivata la pandemia, il fondo si è tirato indietro, loro si sono tenuti la società e la società è cresciuta e ha dato dei risultati brillantissimi al punto che il valore dell'azione ha fatto quasi tre volte, giusto per andare a fare dei nomi, Fope era quotata nel 2020 ad un valore di 8,3 euro per azione, al 31-12-2023 era 29,4 euro per l'operazione. Ecco fortunato, insomma bravo che ha investito in questi titoli, nel 2020 faceva 26 milioni di fatturato, al 31-12-2023 ha fatturato 66 milioni, quindi ha triplicato il fatturato e oggi in borsa vale 158 milioni di euro, un po' di più, valeva al 31-12, al 30 aprile 2024 l'azione più o meno è stabile perché siamo intorno ai 28 euro per azione, siamo sempre a 150 milioni di valore complessivo della società. Quindi lei dice la valutazione, a parte appunto abbiamo detto tante volte e lo ripetiamo che non è detto che i risultati passati si possano replicare in futuro, magari non con queste performance, però lei dice sono aziende che comunque sono cresciute sulla base del loro valore. Anche perché se torniamo indietro al 2020, un'azienda che faceva gioielli o come anche Club che faceva vetrinette quando con il lockdown non si esce più di casa, è chiaro che i gioielli difficili che uno va a comprarli online, soprattutto gioielli che hanno un prezzo medio abbastanza elevato e poi nessuno va più nei negozi o nei supermercati, quindi anche i bancali vengono meno sfruttati e non c'è bisogno di rinnovarli, eppure sono aziende che nonostante questo hanno avuto un percorso molto interessante, tale per cui comunque sono riusciti a crescere. Giusto per dire, Club fatturava 40 milioni nel 2020, nel 2023 è arrivata a fatturare 63 milioni, quindi è fatto più 50%, PowerSoft grazie al fatto della ripresa degli eventi da 29,5 milioni di fatturato è passata al 31-12 a 70 milioni, edilizia corbatica sfruttando il 110% sui quali ovviamente è avuto una discreta spinta è passata da 46 milioni a 160 milioni e grazie a questo know-how si è anche estesa la quotazione al listino francese, ha iniziato anche ad aggredire il mercato francese su quale ha trovato grandissime disponibilità, per cui oggi è stata vista come un'azienda che ha creato al di fuori del 110, una base solida di crescita anche per il futuro, poi io non so le azioni come andranno, però sicuramente hanno avuto una buona performance dal punto di vista borsistico in tre anni. Ecco, quindi comunque mi sembra di capire che l'approccio richieda di valutare insomma quali sono le potenze, insomma è l'approccio dell'investitore professionale. Bisogna studiarsi i bilanci e affidarsi, se uno non ha la capacità o il tempo, di affidarsi a gestori che vanno a fare, come dicevano prima, fare cherry picking per cui andare a cercarsi le aziende che sono le più interessanti sulla base proprio dei dati di bilancio, quindi non sulla base del percorso di crescita, del settore, piuttosto che invece di quello che sono solo le intenzioni dell'azienda stessa, perché poi dopo, molte volte abbiamo trovato tante aziende che dicevano io l'anno prossimo fatturerò più 100, più 200, più 300%, poi dopo in realtà bisogna capire se quel settore regge quelle crescite e se l'azienda ha la struttura organizzativa e soprattutto finanziaria per sostenere queste crescite. In un settore value, se vogliamo, c'è già una base solida, appunto come diceva appena prima, abbiamo bilanci, abbiamo clienti ricorrenti, abbiamo un prodotto che non è soggetto a modifiche tecnologiche tali da pregiudicare il futuro e quindi è più facile fare, come dire, un'analisi, però bisogna analizzarlo, ecco, quello sicuramente. E questo è il fattore comune di queste società o secondo lei, appunto, aveva detto, sono settori assolutamente diversi, aziende completamente diverse, avete trovato un comune denominatore a parte appunto, cioè o è questa cosa dei buoni numeri di bilancio? Allora, sono settori completamente diversi, FOP e CULTI si rivolgono al pubblico, consumatore, edilizia acrobatica e CLABO, così come anche Powersoft, si rivolgono al settore industriale, B2B queste tre e B2C le altre due. Quindi non c'è, secondo noi, almeno in Italia, sul mercato borsistico italiano, un trend specifico che si può seguire, bisogna avere una grande capacità di analisi, anche perché sono tutte aziende piccoline, qualcuna fattura 100 milioni, la maggior parte fattura meno, quindi stiamo parlando comunque di realtà dove la dosi di rischio è alta e però bisogna avere pazienza se si vogliono cercare di ottenere dei buoni risultati. Ecco, allora siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento e per concludere chiederei a tutte e tre, quindi insomma adesso magari andiamo in ordine alfabetico, quindi parterei con il dottor Allegra. Insomma abbiamo parlato tanto di pandemia, abbiamo parlato di settori industriali, di rimbalzo, allora vi chiedo rispetto appunto allo scenario di rallentamento economico attuale, se insomma abbiamo scontato insomma il rimbalzo della pandemia, se ci sono invece se vedete tra tassi e insomma in questo binomio difficile adesso da capire tra tassi ancora alti e rallentamento in Europa quali sono le prospettive insomma per queste aziende che magari contano appunto sul ciclo economico, sulla ripresa del ciclo economico. Partirei con lei dottor Allegra, qual è lo scenario che vede nel prossimo futuro? Allora lo scenario è sempre mutevole ed è difficile da interpretarlo e da insomma prevederlo soprattutto in un periodo di tempo un po' lungo. La cosa che posso dire è che uno scenario di tassi in ribasso sicuramente non favorisce il value perché generalmente il value è poco, le aziende value sono poco indebitate e poi uno scenario di tassi in diminuzione invece favorisce i titoli growth, quindi i titoli più a leva tra virgolette. Che sono più indebitati giusto? Che sono più indebitati e hanno bisogno di capitali per crescere rapidamente, questi capitali li recuperano sul mercato e quindi ha dei tassi diciamo abbastanza elevati, quindi se scendono i tassi hanno minore costo del debito. Per quanto riguarda invece la crescita economica in Europa abbiamo visto dei timidi segnali di recupero, in America abbiamo visto dei segnali di rallentamento, sono delle prime letture, è difficile da stabilire se sia un trend duraturo o no, chiaramente partiamo da un'economia debole in Europa e il rallentamento in America con le borse sui massimi, quindi non è il miglior scenario possibile in generale per un investimento azionario. Allora dottor Franceschini invece magari più rispetto all'Italia. Allora io quello che vedo che oltre a quanto è stato detto adesso ad Allegra, terrei conto molto di quello che è la posizione dell'azienda dal punto di vista della presenza internazionale, perché i settori diciamo dipendono molto dalle aree di crescita che si vanno un po' a macchia del leopardo, perché è vero che ci sono dei segnali di rallentamento negli Stati Uniti, l'Europa è un po' stagnante, ma ci sono tanti altri mercati in forte crescita. Ecco, quello che andrebbe guardato per ogni azienda è la sua capacità di poter aggredire dei mercati o di poter stare su dei mercati che sono mercati di crescita. Ho sentito tante aziende nel campo della moda che si stanno concentrando sulla formula 18-28, cioè vanno a fornire prodotti in quelle aree dove il pubblico, il consumatore prevalentemente femminile è fra 18 e 28 anni, perché sono quelli che consumano di più, dopo cominciano altri tipi di consumi e quindi è la capacità di stare sul mercato a livello mondiale che è che può dare dei percorsi di crescita sostenuti e stabili a un'azienda anche di dimensioni medio-piccole. Le aziende anche piccole italiane hanno una capacità di lavorare sui mercati internazionali. Certo, perché così si prende non solo la crescita italiana, ma che tra l'altro è stata anche relativamente buona rispetto a quella degli altri paesi europei negli ultimi anni, ma contano anche sulla domanda fuori dall'Italia. Dottor Nicolodi, faccio la stessa domanda anche a lei, qual è il vostro scenario per la crescita ancora del settore value, se è positivo o se non è positivo, dove vedete più possibilità? Dietro direi, il fattore value ha sempre un'importanza in un contesto di allocazione nel portafoglio. Cercare la volatulazione attrattiva nei titoli comunque è sempre molto importante. Collegare il fattore value a effetti o fattore di qualità, fattore di momentum, che potrebbe essere anche a più corto periodo, garantisce in generale una distribuzione del rischio in diversi fattori che aiuta a stabilizzare un portafoglio in via generale, al di fuori di una discussione deep value dove il stock picking in certe compagnie molto dedicate è molto più complesso e ovviamente c'è bisogno di un'analisi approfondita e di certa esperienza per cercare questo. Detto questo, se ci guardiamo la performance dei mercati a partire del fine 22, tassi di interesse in forte rialzo che in teoria avrebbero dovuto essere molto positivi o più positive per le azioni value a livello globale, però anche a livello statunitense o europeo. Invece quello che abbiamo visto è una forte high performance del settore tecnologico, del fattore crescita in un contesto dove magari tutti si aspettavano più una performance forte del fattore value. Detto questo, se nei prossimi mesi vediamo un gap, una differenza nell'aspettativa dell'inflazione, nel ribasso dei tassi di interesse potrebbero esserci delle sorprese che magari oggi non sono in linea al forecast che si avrebbe per il fattore value e magari un rallentamento dell'economia aiuterebbe più dei fattori difensivi come l'healthcare o l'energia con oggi delle valutazioni più basse e dove si trova anche più value al confronto di altri settori. Benissimo, grazie mille. Allora io ringrazio il dottor Mario Allegra, responsabile degli investimenti di Alfa SCF. Grazie per aver partecipato, grazie al dottor Franceschini, presidente di Ambro Mobiliare e grazie a René Nicolodi di Swisscanto. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è lunedì prossimo con il webinar di Plus24 con un altro argomento.